Attenzione per le terre alte, lo promette la lega e lo fa attraverso chi fu ministro per gli affari regionali. Avevo anche concentrato un'attenzione particolare sulla montagna con dei tavoli permanenti proprio per unire tutti gli stakeholder e tutti gli operatori, tutti i protagonisti della montagna nella stessa stanza per riuscire a creare delle politiche e delle soluzioni condivise perché la montagna oggi viene valutata per settore, l'industria montagna, l'agricoltura della montagna, la questione della fauna selvatica, la questione ambientale, le questioni scolastiche, le questioni urbanistiche. In realtà la montagna è una sola. Belluno che probabilmente avrà un solo parlamentare e non della lega. Ma non c'è ombra di dubbio, abbiamo già detto, è una grossa mancanza per il nostro territorio e vediamo come possiamo andare avanti e continuare a fare politica. Buona l'idea di pensare a qualcuno nel governo? Ottima idea direi, bisogna vedere in che ruolo e vediamo come andrà a finire. L'EIA che però aspira ad avere qualcuno che rappresenti la montagna all'interno del governo? C'è una legge elettorale che penalizza, una legge elettorale che non ha tenuto conto delle aree deboli e credo che il modo migliore per far sentire la voce delle aree deboli sia in qualche modo un coinvolgimento nell'attività di governo. Poi io non dico come, non spetta a me trovare le soluzioni, però questo credo che debba essere l'auspicio. Anche per quanto è emerso poi oggi dalle parole del Ministro, quanto importante sia avere sui tavoli direttamente la voce di chi le realtà della montagna le vive. Grazie a tutti.